In questo video voglio raccontare la storia di un grande, il leone del Panjshir, Massoud, una figura a cui mi sono affezionato molti anni fa e chiunque incontra le sue letture, la sua storia se ne affeziona. Infatti in questo video cercherò più di presentare la grandezza dell'uomo e delle sue imprese, più che una storia cronologica di battaglie e guerre. Il leone del Panjshir lo possiamo anche definire il Che Guevara del Medio Oriente. Noi siamo abituati ad attribuire a Che Guevara il simbolo delle minoranze, dei diritti, della libertà. Questa però è una storia occidentale, in Medio Oriente ma in particolare in Afghanistan. La figura di riferimento per queste lotte è appunto Massoud. Accomuna i due personaggi carismatici anche il loro destino, l'essere eroe. E per eroe intendo la figura originale dell'eroe, quella della mitologia greca, cioè uomo capace di grandi imprese contro nemici invincibili. E questo è successo. Massoud è riuscito a combattere, lottare e vincere contro due grandi superpotenze. Massoud nasce nel 1953 nella valle del Panjshir, una zona geografica montuosa sopra Kabul. La valle del Panjshir è l'unica via che da Kabul arriva negli stati confinanti a nord e quindi è di fondamentale importanza il controllo per chi vuole conquistare l'Afghanistan. La valle del Panjshir è abitata da pastori e contadini. Massoud si ritrovò a capo di questo improvvisato esercito di partigiani combattenti e grazie alla sola forza della strategia sconfiggerà due superpotenze. Prima il comunismo incarnato dalla grande Unione Sovietica e poi il fondamentalismo islamico, all'apice, comandato da Osama Bin Laden. Massoud è riuscito a difendere la sua valle e la sua gente dal 1978 al 2001 e se fino ad oggi si può dire che l'Afghanistan non è mai stata completamente conquistata, lo si deve ad un solo uomo, acquisendo di diritto l'immagine dell'eroe. Come è riuscita a sconfiggere questi eserciti? Nel 1978 si insediò il regime sovietico in Afghanistan, sterminando e torturando decine di migliaia di afghani. Si insediò prima a Kabul e poi cominciarono l'avanzata nella valle del Panjshin dove li aspettava una popolazione rurale armata di fucili da caccia e vanghe, tutti dietro al comandante Massoud. La prima mossa vincente fu quella di attaccare le miniere di smeraldi che servirono per finanziare l'intera difesa. Poi costruì artigianalmente delle mine e cominciò la strategia in battaglia. La resistenza si nascondeva tra le montagne, si muoveva senza dare punti di riferimento e lasciando dietro a sé le mini artigianali dove erano costretti a passare i carri armati e le truppe russe. Puntualmente saltavano in aria e così, piano piano, i contadini sostituirono le vanghe con le armi dei nemici compreso lanciarazzi. In linea generale le regole della strategia di Massoud erano se il nemico attacca battiamoci in ritirata, quando il nemico si riposa, si accampa o è in ritirata noi lo accerchiamo e lo attacchiamo. Le ultime offensive russe furono devastanti, usarono i caccia per bombardare i villaggi e come raccontava Gino Strada, venivano lanciate anche bombe a forma di pappagallo giocattolo e una volta presi in mano dai bambini esplodevano. Massoud dovette difendersi da queste armate giganti e spietate. Riuscì comunque a far evacuare moltissime famiglie prima dei bombardamenti e grazie alla fornitura americana dei missili antaerei riuscì a difendersi anche dai caccia. Furono 9 le avanzate russe, ci furono decine di migliaia di morti da una parte e dall'altra, ma la valle non fu mai conquistata. Stessa sorte fu poi per i talebani, i quali conquistarono tutto l'Afghanistan tranne che la valle del Panjshir, unico luogo dove ancora le bambine potevano andare a scuola. Un'altra caratteristica fondamentale per definire un uomo come Massoud eroe è il fatto di lottare per dei valori universali in cui noi ci medesimiamo, perché Massoud non è che lottasse soltanto per difendere la sua valle, ma per i diritti di tutti gli afghani, la libertà, la pace. Quando vediamo questi guerriglieri in questi territori perennemente in guerra, in battaglia, pensiamo che il loro destino sia quello e smiruriamo quasi la loro vita, la loro morte, ma Massoud ci racconta altro. Il suo destino poteva essere ben diverso. Lui ha studiato nelle scuole francesi di Kabul e aveva la possibilità di prendere la borsa di studio, andare a Parigi e farsi una carriera, ma ha deciso di dedicare la sua vita alla difesa del popolo, alla difesa di quei diritti che servono per rendere un uomo un eroe, cioè immedesimarsi nella battaglia di valore universale. È questa la vera eredità per chi ancora oggi in quei territori lotta per la libertà. Vedere un uomo che aveva una vita normale, una proiezione di vita normale, decidere di dedicarla per sconfiggere il grande nemico e riuscirci, infondendo nei giovani quello che è fondamentale per le battaglie, che è la speranza. I giornalisti che hanno avuto la possibilità di incontrarlo raccontavano che era circondato di libri, amava la poesia, specialmente quella persiana, la mistica Sufi. Conosceva la poesia francese ed aveva studiato molto De Gaulle. Nel suo esercito volle che ogni responsabile militare sapesse scrivere e leggere i giorni, il persiano. Pretendeva poi che i prigionieri fossero trattati bene, dicendo che è un imperativo categorico delle leggi dell'Islam. In quanto alle donne disse in un'intervista che se avesse preso il potere avrebbero potuto studiare, fare ogni tipo di lavoro e se ci fossero state lezioni avrebbero potuto votare e candidarsi. Ma questo purtroppo non accadde. Il 9 settembre 2001 due finti giornalisti chiesero un'intervista a Massoud e quando erano ad un passo si fecero esplodere. Due giorni dopo caddero le torri gemelle, due venti legati in una dinamica internazionale ancora oscura, si dice pilotata da Bill Laden. La sua storia, la sua iconografia, con il naso aquilino, sguardo tagliente, il berretto chiamato Pakol messo su un lato è quel simbolo disseminato per tutto l'Afghanistan. Oggi invece viene rimossa la sua immagine dai talebani un po' ovunque, mentre nella valle del Panjshir il figlio di Massoud cerca, come può, di fare resistenza. Massoud per molti afghani è stato un eroe, per altri un semidio, perché ha portato la sua vita all'estremo sacrificio, che letteralmente sacrificio vuol dire rendere sacro. Al funerale i suoi uomini, quelli forti, duri, che ogni giorno convivano con la morte, piangevano e ancora oggi la sua tomba è sorvegliata dai suoi uomini. Come a dire, comandante, tu ci hai protetto da vivo e noi ti proteggiamo da morto. Massoud, il leone del Panjshir. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.